Il predisposto è pubblicato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per il finanziamento di proposte progettuali da inserire nell'ambito delle manifestazioni della Kermes restate a torre organizzate nella suggestiva cornice architettonica di Villa Macrina. L'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura e gli eventi guidato dal vice sindaco Enrico Pensati è finalizzata ad accrescere la quantità e la qualità della programmazione culturale estiva incentivando attraverso forme espressive e innovative la conoscenza e la fruizione degli spazi e del patrimonio culturale storico ed artistico della città di Torre del Greco. Così dunque come espressamente emerge dal testo dell'avviso pubblico sono state individuate ben 17 sezioni ognuna con propria macro area di interesse in ordine alle quale è possibile presentare domande di trasferimento, vantaggio economico e patrocinio su specifiche progettualità. Le medesime domande non più di una per soggetto proponente possono essere presentate da associazioni e o enti morali privati o ecclesiastici che operino senza alcun fine di lucro e per una sola progettualità. Le stesse inoltre indirizzate a servizi eventi e cultura e recanti nell'oggetto alla dicitura avviso pubblico restati a torre dovranno essere presentate esclusivamente attraverso l'ufficio protocollo del comune di Torre del Greco presso Palazzo La Salle in via generale Carlo Albetto dalla chiesa oppure a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 luglio usando l'indirizzo mail protocollo.torredelgreco.it. Abbiamo ritenuto prioritario le parole dell'assessore pensati dare spazio e visibilità alle molteplici espressioni artistiche e culturali delle tante realtà del nostro territorio favorendo la composizione di un avviso pubblico che rappresentasse un'autentica opportunità di un confronto e di aggregazione sociale e al tempo stesso consentisse un coinvolgimento maggiore e a più ampio respiro tale da elaborare un concetto inclusivo di città dal centro alle periferie. Per idonea e opportuna lettura l'avviso pubblico è consultabile e scaricabile dal sito del comune di Torre del Greco sezione Urp Informa.